Beh, c'è una stock che sta treccinando tutto quanto. Ed è Alfonsino Spa! No, questo è il Snowcane Anche Advice, ragazzi. Vedo che il Matoxi è proprio sul pezzo, proprio sul pezzo. No, ovviamente si parla di NVIDIA, si parla di NVIDIA. E, beh, devo dire che... Aspetta, vediamo qua il chart del stock di NVIDIA è interessante. Stai condividendo qualcosa, Tommy? Eccolo qui, eccolo qui. Questo è l'ultimo anno di NVIDIA, ha fatto un... Beh, 67%, dai. Abbiamo superiore di 2 trillion di market cap. Mamma mia, mamma mia. 2 trillion di market cap. Qui adesso che è numero 2 o numero 3? Numero 2 al mondo. Beh, no, 3 almeno. Cioè, Microsoft e Apple stanno lì, eh. Apple, Apple, mi dicono che devo chiamarla Apple. Beh, in realtà è Bende, scusa, se sei negli Stati Uniti è più Apple. Non sono convinto. Apple mi sembra più UK. Però sì, c'è anch'io lo intendo a... Senti Tim Cook che ne parla, dice Apple. Quindi si dice Apple, ragazzi. No, Apple e non A-Pol come alcuni del gruppo. Sì, no, allora forse NVIDIA è terza al momento. Microsoft e Apple sono prime e secondi, stanno sui 3 trillion entrambi. Ah, giusto. Stanno sui 3 trillion e sta... Guida il gruppo di inseguitori, superando Amazon e Alphabet. Sta cosa, ragazzi, era, non lo so, qualcuno può dire che ci avrà preso, però era abbastanza impensabile, onestamente. Sì, allora diciamo che... Beh, oddio, impensabile non lo so, perché comunque si parla di un'azienda che è la più grande beneficiaria dalla rivoluzione AI, questo era chiaro a tutti, e diciamo è una scommessa che si poteva fare. Quello che secondo me ha sorpreso un po' tutti è quanto siano riusciti a crescere i earnings in un tempo relativamente breve. Hanno rilasciato i risultati dell'ultimo trimestre del 2024, che è quando la stock è volata proprio alle stelle. fondamentalmente record di revenue per quarter, 22 miliardi di dollari, 22% rispetto al Q3, 265 rispetto all'anno scorso, 265%. Come fanno a fare delivery, mi chiedo? Cioè nel senso che... Diciamo che a Taiwan qualcuno sta facendo gli straordinari, ecco. Eh, ma tante altre aziende, ma la stessa Google, io mi ricordo che aveva problemi anche con l'hard, ci ha messo anni prima di riuscire a tenere ritmi sui prodotti fisici. Ma tante altre aziende, loro sono riusciti a... Però c'è anche da dire che penso che le GPU per AI siano tra i prodotti col margine più alto in assoluto. Perché le vendono a 100 mila dollari e gli costa 5 mila euro farle, capito? 5 mila dollari farle. Cioè diciamo che... ma anche la questione di materiale, c'era la crisi del silicio, come cavolo hanno fatto? Ora hanno avuto ottimi future sul silicio, cose del genere. Sono trovati all'incrucio di diverse condizioni immagino, perché tra crypto e AI erano lì. Solo che io ho azioni Intel che stanno al palo da vent'anni. A Intel! Hanno avuto tanti problemi durante la fase crypto, perché chiaramente non avevano più carte grafiche da vendere per quelli che originariamente erano gli utilizzatori di schede grafiche. Cioè i videogiocatori, che in tutto questo sono quelli che penso siano rimasti più a secco. Però si sono un po' allineate le stelle, no? Perché questa tecnologia, cioè la tecnologia utilizzata nelle GPU si è rivelata essere la più utile per minare bitcoin, minare crypto in generale. E poi anche per fare large language models e lavorare sull'AI. Ma sempre hardware devi produrla, non capisco. Qui c'è chi dice Agamennone, grande senatore del canale, GPU per l'AI e l'eliminazione dei software engineer. Cosa intendiamo con l'eliminazione dei software engineer? Cioè io ho contatti in vidia, essenzialmente un Marco Fogo, mio caro amico che poi ho anche portato sul canale. E lui si è pagato in crociera a Valguarnera. Lui va in crociera a Valguarnera. Si la compra a Valguarnera adesso. In realtà scherziamo spesso perché, non lo so, io dico sempre stiamo attenti a tenere troppe chip, troppe uova nello stesso paniere. E lui mi dice ma quindi quando è che è short? Ogni volta che mette il grafico. Eh lo fanno, lo fanno, lo fanno. Vabbè diciamo poi, secondo me ci sta a cavalcare queste ondate quando sei dentro. Non so quanto puoi fare market timing quando sei dentro l'azienda. No, in realtà zero. Zero, primo dal punto di vista proprio legale. Nel senso che se tu hai informazioni riservate non puoi farlo. Poi in generale hai delle trading window. Per cui di solito, almeno in Google funzionava che su ogni quarter, ogni tre mesi, tu avevi un mese di tradabilità. Cioè cosa vuol dire? Che tu il mese prima e il mese dopo degli quarterly earnings non potevi fare nulla e quindi solo il mese e in mezzo. Eh però qualcosina te lo puoi immaginare. Cioè dentro l'azienda magari lo senti. Se tu stai super lavorando a un progettone segreto. Però mi dico anche, sono degli hedge fund, non hanno le stesse informazioni. Cioè magari qualche piccolo hedge puoi avere. Però il fatto che il giorno in cui sono stati riportati gli earnings la stock abbia fatto il 16% vuol dire che un po' di asimmetria informativa c'era. Chiaro, ma quanta gente conosceva i dati effettivi sugli earnings? Sì, quello è anche il good point effettivamente. 20 persone che sono super controllate dall'immagine, spero che siano controllate dall'autorità di controllo. Sì, 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 no, good point. I politici hanno la storia di... Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. Lì c'è molto più facile, a mio avviso. Però... Sì, questo sarebbe interessante vedere tipo dei grafici, no? Perché qua c'è il New York Post. Nancy Pelosi 65% di ritorno sul suo portfolio nel 2023. Altro che... Altro che guru... Sai che hanno fatto un ETF? che traccia Nancy Pelosi. Nancy Pelosi 6 ETF. C'è un ETF. Nance. Bello, bello. Fantastico. Cioè poi, visto che sono pubbliche le trattative... Investendo 20 dollari a settimana nell'ETF di Nancy Pelosi per gli ultimi 5 anni, avresti avuto un ritorno per 1.6 volte. Va bene, anche tantissimo dai 5 anni. Però vabbè, è un dollar cost average. Quindi andrebbe visto il rendimento annuo. Sì. C'è neanche un altro. C'è neanche un altro che traccia un altro politico. Adesso non ricordo bene qual è, però. No, ok. Io so del reverse... Come si chiama? Quello che consiglia le stock in America. Reverse Kramer. Il reverse Kramer pure. Copy trading è bello. Allora, Gamedno ci dice che il capo ha detto che con le AI non servirà più studiare programmazione. Mamma mia, che brutto mondo. Che brutto mondo. Niente, mi sono interessito. Voglio fare una gag, ma... Tu prima hai menzionato Intel, no? Che è interessante quando si parla di questo boom di Nvidia. Perché chiaramente Intel è quella che ha fornito la struttura per l'esplosione dei computer, fondamentalmente, no? Perché era quella che forniva le CPU. Allo stesso modo, quello che le persone stanno dicendo è che Nvidia sta fornendo la struttura per l'esplosione del mondo AI. E un altro paragone che si sta facendo tanto è quello con Cisco. Che, insomma, magari i Gen Z in chat neanche avranno sentito nominare, forse a questo punto. Io la conoscevo, cioè la conosco più o meno, però effettivamente se mi chiedi cosa fa Cisco, io... È da vecchio anche per me. Quando io ero giovane studente già Cisco era tipo la IBM, no? Quelle aziende che erano grandi prima della dot com. Quelle quali erano da Google... Come dico in chat, giustamente. Io non ho idea di cosa faccia. Eh, però Cisco è stata l'azienda numero uno al mondo per un periodo di tempo. E questo era il grafico della valutazione di Cisco negli anni 90 rispetto a quello di Nvidia. A parte che la scala verticale è presa quanto... Se l'ha riducita un terzo... È dieci volte, è dieci volte, sì, sì. Magari Nvidia starebbe semplicemente al primo picco, cioè non lo sai, no? Non sai quanto dura, non sai quanto... No, certo, certo. No, è ovvio che non è razionale questo comportamento. No, 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 ovviamente è solo una cosa simpatica. Diciamo che però il discorso era simile, no? Cioè il motivo per cui Cisco era super in hype in quegli anni è perché l'idea era diventata, ok, servirà l'infrastruttura per portare internet in tutte le case. Noi siamo l'azienda che si occupa di distribuire l'internet fondamentalmente e quindi investite su Tino e poi c'è stato un mix di dotcom bubble e tantissime alternative che sono state trovate per portare internet in maniera economica alle case di tutti e quindi si è rivelato un po' una bolla. Quindi la domanda che intanto si stanno facendo è quale sarà il risultato per invidia, no? Posto che comunque si parla di un PE, se non sbaglio, molto più salutare per invidia rispetto a Cisco in quegli anni. Vabbè, certo, c'è roba sotto, è solida. Esatto, però posto questo... Poi la dotcom bubble è stata veramente una roba che credo che non ci arriviamo più, cioè gli investitori hanno tutti puramente FOMO per molto a lungo, a un certo punto il PE medio era drammaticamente alto. Non so, credo, spero che non ci arriviamo a quella follia collettiva. No, no, quello neanche io, però ecco quello che mi chiedo è qual è la possibilità che tra due anni AMD o Intel o un'altra azienda riescano a trovare, non solo a fare competizione lato GPU a invidia, che chiaramente è possibile anche se è difficile, ma anche magari a trovare un'alternativa alle GPU, perché le GPU non sono nate con... È un discorso complesso, volevo capire il tuo punto di vista. C'è, ho visto, forse anche sul nostro documento condiviso, un video dimostrativo, che ho visto purtroppo a due per metà video, su tecniche GPU less, potremmo trovarlo. Per fare delle idee. Sì, 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 sì. Diciamo, secondo me il problema è a due lati, no? Da una parte il discorso proprio, ok, intanto dobbiamo trovare l'alternativa, e poi una volta che trovi l'alternativa, tutti quelli che oggi stanno studiando come creare LLMs, stanno studiando sull'infrastruttura CUDA delle GPU di invidia. E quindi poi non è solo... Ah, tu sai, diciamo, c'è un'altra alternativa, ma devi anche sapere come usarla. Chiaro, chiaro. È come Adobe, che dà le licenze gratis agli studenti che fanno video editing, così che poi quando cominci a lavorare, usi Adobe, non usi altro. E noi ringraziamo il CEO di NVIDIA, che ha detto che fra un po' non si arrivano più i programmatori, così le loro librerie diventeranno putrefatte, nessuno le aggiorna, e quindi uscirà qualcun altro e farà un SDK per un altro hardware migliore. Grazie ai software engineer che fanno gli SDK. Non li fa le AI. Le AI non fa le API, non fa gli SDK. Per cui, non lo so, magari come tutte le aziende raggiungono la posizione dominante, si tranquillizzano e c'è un competitor che può nascere. Non mi sembra un business ad altissima barriera d'ingresso. Non lo so. Alta, ma non altissima. Cioè se tu ti rilevi uno, arriva e si compra un produttore hardware, può in qualche modo... Eh, ma il problema è che di produttori hardware di questo tipo ce ne sono pochi. Dicevamo prima, è a Taiwan ed è a Capacity non solo con NVIDIA, ma con Apple e Samsung, che difficilmente sposti anche, no? Forse è quello il problema. È che il bottleneck sta nei produttori... Sì, perché appunto AMD, da un punto di vista di tecnologia fuori dall'AI, è sempre stato un po' un competitor di NVIDIA inferiore. Ecco, forse anche quello è il problema. Cioè il problema è che se stai pensando alle schede grafiche per uso consumer, il fatto che diciamo il top di gamma di NVIDIA sia molto più forte rispetto al top di gamma AMD non è un problema, perché interessa allo 0,5% della popolazione avere il top del top per giocare a Minecraft in 8K. Però quando invece si parla di fare in ambito enterprise di usare le GPU per fare training di modelli, lì vuoi essere sicuro di avere il massimo il massimo possibile, perché anche 5 secondi di delay su un'operazione basilare possono fare la differenza nel nel top business. E quindi non è solo un discorso di essere competitivi da un punto di vista di prezzo, ma anche proprio avere l'output massimo di potenza per metro quadrato. Vero. Good point. Oppure se non ci sono i Federico Bidone che comprano la 4090 per giocare. Non so, non riesco, sono molto boomer sto diventando, perché alcuni fenomeni moderni non riesco a provare a interpretarli. Non avrei mai potuto immaginare che NVIDIA sarebbe arrivato da dove arriva adesso. nonostante le diciamo botte di culo nel senso che non è deciso NVIDIA che l'AI sarebbe diventata quello che promette di diventare adesso e che le crypto sarebbero diventate quelle che promettono di diventare adesso, però si è trovata all'incrocio tra fuochi come dire, in un buon punto al momento giusto al punto giusto. Qui qualcuno chiede quanto impatta la vendita ai consumer di GPU per NVIDIA? Questo qui è il grafico che fa vedere che fa vedere le loro revenue e come vedete diciamo che c'è una bella differenza non solo di revenue da data center a gaming il gaming comunque rimane una fetta importante il problema è qui il problema è che a livello di profitti è molto molto più profittevole per loro vendere hardware per data center non c'è storia wow margine 25% 1.4 di net profit su 3.6 billion di revenue beh vedrai tutte le su 6 billion di revenue totale sì no dico solo la parte di data center perché stai ipotizzando che tutto il gaming siano cost cioè stai ah giusto ah no sì good point sì è vero in teoria si sommano però anzi pensavo che il gaming sarebbe stato più basso dico sì eh beh comunque il gaming rimane una fetta importante però sì anch'io intuitivamente avrei detto sarebbe stato irrilevante quasi nella center c'è dentro anche crypto sai che non lo so come includono crypto diciamo che fine dell'anno scorso crypto probabilmente non è stato un grande un grande no è chiaro è vero è vero però starà in gaming perché venderanno schede e via non costruiranno non lo so non so bene come funziona il mondo del mining se no secondo me ci sono aziende che comprano in bulk tantissime tantissime schede anche secondo me però non comprano però non comprano le schede da data center comprano le schede consumer quindi forse va a finire in gaming forse va a finire in gaming però sì dove sta 2b di research and development ah di investimenti bella bella very good point spendono 2 miliardi in research e cerca sviluppo sono spese buono persone più aggiornate sulle crypto ci dicono che ormai con i nuovi cambi tecnologici di bitcoin e ethereum non l'impatto del gpu mining non è più così così grande ok chiaro chiaro non so quanto ethereum mining era così dominante però in effetti sì credo che effettivamente ad oggi sia rispetto al resto AI sia un po' irrilevante sì appunto e magari a nvidia già non interessa più già non interessa più gestire questa questa parte analizziamo una cosa però se non avessero se non avessero space in research and development avrebbe avuto tipo il 60% di margine sì è vero che forse non avrebbero fatto queste revenue però quelle le vedi nell'anno prossimo però è un discorso che si può fare su tutte le aziende no? beh no 60% di margine aziende che fa prodotti fisici good luck sì avrebbero fatto 3.4 billion su 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 6.1 stiamo sul sì sì interesting beh è vero molto molto interessante diciamo che non che al momento non gli serve non hanno bisogno di questa di queste extra revenue beh oddio devo dire che è è un momento è un momento particolare per quanto è probabile che possa fare un 2x un'azienda che già già sta lì quello che mi volevo chiedere al momento stavo cercando di formulare la domanda è questa domanda per GPU è un one time one time thing oppure questo questa richiesta ha ancora tanto partiamo con le speculazioni di mezziero a me sembra assurdo che un oggetto nato per un altro scopo con un hardware non pensato cioè non ottimizzato per queste cose qui ora sia lo standard e tutti quelli che hanno provato a fare cose più più custom non hanno avuto anche google ha fatto le lecce tensor unit hanno avuto grande successo quindi strano che alla fine stiamo usando un cucchiaio per tagliare la bistecca però è il meglio che abbiamo e quindi via sì quello è particolare no ma più che altro mi chiedevo cioè io adesso sono google e ho messo tutte quante le GPU che ho comprato all'interno del mio del mio data center quanta richiesta ancora ci sarà di GPU per questi scopi nei prossimi due o tre anni cioè beh si frigga c'è anche un ricambio cioè tu anche solo per servire data center attuali se un 20% ogni anno vanno fritte rifatte non è male sì sì però si parla di sostenere questi tassi di crescita deve esserci un aumento di domanda quello non è non è sostenibile un'altra riflessione interessante che ho sentito mi sembra nell'All in podcast sto seguendo di meno però questa settimana ho sentito un po' e uno dei loro host faceva notare come adesso un sacco di di aziende tipo Meta Google Apple hanno un sacco di soldi da spendere ma pochi modi per spenderli perché lato M&A ci sono un sacco di problemi rischi di di farti di ricevere denunce a destra e sinistra legate all'esercizio di monopolio e simili dall'altro lato diciamo a livello di anche proprio di investimenti non ci sono tantissime opportunità non sanno come spendere i soldi non sanno come spendere i soldi e puntare sull'acquisto di hardware come questo è un accounting a livello anche di accounting ti permette di mettere giù un po' di R&D expenses e utilizzare quel quel cash non so quanto possa essere veridiana però mi sembra interessato e se stessero dividendi se distribuissero quella quota no? e quindi magari iniziassero una policy di ok abbiamo raggiunto saturazione adesso diventiamo valio però a parte che ammetterebbero di non sapere più come spendere i soldi in un certo senso dando dividendi quindi a livello di immagine magari non è non è sono un boomer sono vecchio non è il massimo forse no e poi l'altra cosa a cui stavo pensando è comunque che fai cioè è un po' come ragionano i venture capitalists noi facciamo 10 scommesse l'anno su cose che possono fare 10 per adesso non ti prendi il rischio di fare questa scommessa che stanno facendo tutti che effettivamente sembra avere questo questa potenzialità di fare 10 per quindi secondo me è anche un po' quello il discorso cioè il rischio di rimanere indietro è talmente grande che preferisci fare comunque l'investimento forse è che è quello che ha fatto la dotcom bubble cioè oggettivamente med inizia a dare di vedere infatti med forse è quella che sta investendo di meno che è strano che è strano sì avevo un'altra riflessione su 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 sonvidia sono dimenticata scusate la pomeraggine vabbè vabbè diciamo che che ci sta grazie a tutti